Grazie, Presidente. Come relatore di minoranza di questo provvedimento, avendo non tantissimi minuti, cercherò di condensare le considerazioni e le critiche fortissime che la Lega muove a questo decreto. Inizio la mia relazione anch'io con un appello e con una certezza. L'appello è l'appello che lancio al Governo e l'appello che lancio alla maggioranza di ritirare questo decreto, perché questo decreto rappresenta una vergogna, rappresenta una follia rispetto alla quale io credo che continuare a discutere questo decreto in un momento dove i problemi, le esigenze e i bisogni dei cittadini, e mi permetto di dire dei cittadini onesti, delle persone per bene, sono altre. Questo è il quarto svuotacarceri, il quarto decreto che si occupa di carceri e di sovraffollamento delle carceri in questi nove mesi. Come se i problemi del Paese siano inerenti esclusivamente al problema delle carceri e al problema del sovraffollamento delle carceri, quando noi sappiamo che i problemi del Paese sono ben altri, la crescita, la disoccupazione, il problema delle tasse. Abbiamo un Governo e abbiamo una maggioranza che in nove mesi si è occupata e si è preoccupata solo dei problemi dei detenuti, dando voce ai detenuti senza spendere mai una parola per le vittime dei reati rispetto alle quali noi invece vogliamo dare voce. Quindi l'appello, l'appello accorato, e spiegherò poi le motivazioni per cui lancio questo appello al Governo e alla maggioranza, è quello di fare un gesto di buon senso, fare un gesto di buona volontà e ritirare questo decreto indecente e vergognoso. La conferma è che se la maggioranza e il Governo non verranno mossi dalla necessità di ritirare questo decreto, annuncio sin da subito come relatore di maggioranza e come forza politica che si è opposta, si oppone e continuerà a opporsi a provvedimenti di clemenza, a indulti mascherati per affrontare il sovraffollamento delle carceri, unicamente liberando le carceri e facendo uscire i criminali detenuti dalle carceri e non con altre soluzioni, do la conferma sin da subito che la Lega porrà in essere un'opposizione durissima e un ostruzionismo altrettanto duro. Perché in questo momento, dove il picco di insicurezza e dove la richiesta e la necessità e i bisogni di sicurezza dei cittadini è altissima, io voglio ricordare alla maggioranza e al Governo che fonti del Ministero e non fonti della Lega dicono che nel nostro Paese ogni minuto si verifica un furto nelle abitazioni, che negli ultimi sei mesi i furti nelle abitazioni al nord sono aumentati del 54%, a Milano del 30%, a Bologna del 29%, dal 2004 ad oggi i furti nelle abitazioni sono aumentati del 114% e la risposta di fronte a un bisogno di sicurezza maggiore dei cittadini non può essere l'ennesimo svuotacarceri, l'ennesimo indulto mascherato, l'ennesimo provvedimento con cui si tenta e non si riesce peraltro a risolvere il problema del sovraffollamento delle carceli rimettendo in libertà chi ha commesso dei reati e con ciò si vanificano alcuni principi sacrosanti, il principio della certezza della pena, il principio dell'effettività della pena, tale per cui chi sbaglia paga e se è previsto il carcere paga interamente la propria pena con il carcere o ancora si vanifica il lavoro delle forze dell'ordine che sono dedicate ad arrestare e a mettere in galera chi commette reati per il quale è previsto il carcere e dopo pochi minuti o dopo pochi giorni si rivede gli stessi soggetti che hanno commesso reati rimessi in libertà. Ed è per questo che io invito la maggioranza a fare un passo indietro, ad ascoltare i bisogni reali del Paese, ad ascoltare la voce, la voce anche delle vittime, dei reati che chiedono giustizia e che chiedono sicurezza. Presidente, questo decreto che è poi ovviamente negli oltre 200 e passa emendamenti che abbiamo presentato in Commissione e che ripresenteremo ovviamente per l'Aula in questo decreto non è più solo un decreto svuota carceri, ma è peggio ancora un decreto che può tranquillamente essere definito come l'hanno definito non solo i leghisti, ma come l'hanno definito dei magistrati in prima linea nella lotta alla criminalità organizzata. Eleggerò e farò i nomi e cognomi dei magistrati che sono venuti in Commissione a dirci che questo decreto svuota carceri non è solo uno svuota carceri, ma è un decreto che rappresenta un regalo alla mafia, un regalo alla criminalità organizzata. Non è solo uno svuota carceri, ma è un salva mafia, è un salva totò Riina. E io credo che in questo momento, dove tutti si riempono la bocca di lotta alla criminalità organizzata, di lotta alla mafia, approvare questo decreto che tra l'altro ha già effetti, è già in vigore. Già ci sono dei mafiosi, e faccio nomi e cognomi dei mafiosi che hanno beneficiato di questo provvedimento, ci sono già dei mafiosi che grazie al decreto svuota carceri sono in libertà. E ci sono pericolosi criminali, cito ad esempio Luca Delfino che nel 2015, Luca Delfino nel 2007 ha ucciso con 40 coltellate la sua ex fidanzata, grazie alla liberazione anticipata speciale, che non è nulla di più che un regalo, uno sconto, un beneficio che passa dai 45 giorni previsti oggi per legge a 75 giorni. Nel 2015 Luca Delfino, che è stato condannato a 18 anni di carcere, tornerà in libertà. E questa è una vergogna che non possiamo approvare, che non possiamo portare all'approvazione del Paese. La norma sulla liberazione anticipata speciale, da 45 a 75 giorni di sconto, a 75 giorni di pena, cosa significa? Significa che nel momento in cui noi abbiamo un soggetto condannato a un anno di pena, sconterà sette mesi in carcere e avrà cinque mesi di sconto. Nel momento in cui sarà condannato a sei anni di pena, avrà tre anni e mezzo di carcere, due anni e mezzo di sconto. Chi è condannato a dodici anni di pena avrà sette anni di carcere e cinque anni di sconto. E, come è stato detto tanto dal procuratore aggiunto del Tribunale di Messina, il dottor Ardita, un magistrato in prima linea nella lotta alla criminalità organizzata, questo non è un indulto mascherato, questo è peggio di un indulto mascherato. Si parla, e riporto integralmente le parole del dottor Ardita, si parla di un indulto mascherato, è peggio. L'indulto opera in maniera generalizzata, uguale per tutti. Invece, con il meccanismo previsto dal decreto, lo sconto cresce con il crescere della pena e, non essendovi sbarramento, vi è la possibilità di far uscire i soggetti più pericolosi sul piano criminale. Il decreto cancellieri sulle carceri, ha sottolineato sempre il dottor Ardita, è applicabile anche ai detenuti di mafia, ma ancora, non solo il dottor Ardita, Marcello Maddalena, procuratore generale della Repubblica di Torino, con lo svuota carceri lo Stato si è arreso. Il decreto, spiega Marcello Maddalena, ripeto, procuratore generale della Repubblica di Torino, non un leghista, contraddice lo scopo primario di ogni seria politica criminale, far diminuire il tasso di delinquenza. L'obiettivo di questo testo, invece, è ridurre il sovraffollamento delle carceri tramite sconti di pena che quasi annullano l'effettività della stessa. Da molte procure arriva l'allarme sulle porte spalancate in anticipo a mafiosi e camorristi, dice il dottor Maddalena. È una conseguenza grave quanto inevitabile. Gli sconti più forti sono previsti per chi è stato condannato alle pene più alte. Ma c'è un altro punto molto dannoso del testo, e parla sempre Maddalena e io ovviamente sono concorde con lui, il decreto ha trasformato la lieve entità dello spaccio da attenuante a reato autonomo con pena massima di cinque anni. E ciò renderà impossibile arrestare e mandare in comunità gli spacciatori minorenni punibili solo per i delitti con la reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni. Presidente, purtroppo ho concluso il mio poco tempo a disposizione, questi pochi minuti per far capire che questo decreto è uno cempio. È un decreto che non può essere portato in approvazione perché, ripeto, rappresenta un regalo a mafiosi, a camorristi, a criminali, a spacciatori. La Lega farà un'opposizione durissima. Faremo tutto l'ostruzionismo possibile per bloccare questo decreto, per far decadere questo decreto, perché questo decreto è un regalo alla mafia, è un regalo ai criminali e la Lega non può accettare questa ingiustizia e questa ennesima minaccia alla sicurezza dei cittadini per bene. Grazie.